Ciao da Absim! Mi spiegate un attimo cos'è questa storia che se ne deve andare Sarri e deve tornare Massimiliano Allegri? No, sul serio, parliamone. Parliamone e ne parlo soltanto perché in questi ultimi giorni, complice alla sconfitta di Napoli, queste voci sono diventate veramente insistenti. Perché a dirla tutta vanno avanti da tempo, eh? Cioè che Sarri se ne debba andare e che era meglio Allegri, alcuni tifosi lo dicono da troppo tempo. Secondo me ci sono anche tifosi in malafede, non tutti, giornalisti in malafede, molto pochi, che tirano avanti questa tesi. Cioè che Sarri è inadeguato per la Juventus, Sarri non è da Juve e con Allegri si stava molto meglio. Anche da un punto di vista del gioco, pensate, cioè ci sono tifosi che guardano la Juve di Sarri, la Juve è capace di vincere due partite 4-0, di segnare tanti gol, di fare gol meravigliosi, di fare calcio spettacolo e dicono che con Allegri si giocava meglio. Perché? Perché con Sarri si soffre di più. Passiamo tutte le partite a soffrire, ogni partita è una sofferenza. Quando in realtà teniamo il pallone molto più alto degli anni passati, facciamo molto più predominio territoriale, facciamo molto più possesso palla, il baricentro è molto più alto e questo lo dicono i giocatori, lo dicono i diretti protagonisti, lo ha detto persino Bonucci, quindi sono cose abbastanza inconfutabili. Oltre al fatto che naturalmente la Juventus palleggia molto di più e questo l'ha confermato anche Di Bala. Ma senza entrare adesso in discorsi tattici, vorrei veramente capire perché si pensa che Allegri possa tornare alla Juventus. Cioè diciamolo chiaramente, Allegri non tornerà, Allegri non tornerà alla Juventus. Perché non siamo una banda di pazzi, non siamo un circo, la Juve non è un circo. Se Agnelli e la dirigenza hanno deciso di esonerare Massimiliano Allegri dopo cinque stagioni, in cui ha vinto tantissimo, avevano le loro ragioni. Avevano le loro ragioni che permangono, non è possibile tornare indietro, sarebbe veramente patetico. Anche perché Allegri non è il miglior allenatore del mondo, non è un allenatore senza il quale non vinci più. Poi certo lo vediamo, magari Sarri alla fine della stagione avrà zero trofei. E si faranno le valutazioni su Sarri, ma perché all'indietro? Cioè se Sarri non è adeguato, non sarà adeguato, lo vedremo più avanti, eventualmente. Ed eventualmente sarà sostituito con un nuovo allenatore, cioè si va avanti. Non ha senso tornare indietro, davvero non ha senso. Voi mi dite, sì ma Lippi è tornato, era un'altra epoca, era un'altra Juventus ovviamente. Per il resto adesso guardiamo sicuramente avanti. È cambiato anche il calcio, ma poi voglio dire anche questa cosa. Capisco che le dichiarazioni di Sarri sono state inopportune, infelici, inadeguate. L'ho detto anch'io, che non sono sarrista, non sono sarriano, non ancora. Perché ancora non mi ha convinto perfettamente. Perché dopo 6-7 mesi di lavoro ho visto molte cose positive, ma non è ancora tutto positivo. Perché la squadra è in cantiere, sta lavorando, servono ancora miglioramenti. La Supercoppa italiana non l'ha vinta, quindi è a zero trofei su uno disponibile. Si vedrà se continuerà a vincere. Quindi non sono un difensore di Sarri. Vorrei semplicemente che lo si lasciasse lavorare serenamente, perché secondo me ha gli argomenti, le capacità e le caratteristiche per portarci in alto, per portarci lontano. E vi ho anche già detto che la mia personale valutazione tecnica su Sarri non la anticiperò a prima del 2021, ma tendenzialmente la farò nel 2022. Cioè starò qui passo passo a criticare, ad osservare, a farmi la mia idea, ma non credo che esprimerò giudizi definitivi prima del 2022, perché secondo me dobbiamo dare a Sarri, per il suo modo di lavorare, questo triennio, questi tre anni di lavoro effettivo, per poi poter dire com'è andata. Perché in questi tre anni Sarri, ripeto, può portarci in alto, può portarci lontano, ma bisogna dargli il tempo per farlo. Ma dicevo, se Sarri, io non sono sarriano, ma non riesco a capire perché si è impazienti, e anzi si è spazientiti da Sarri, dal suo lavoro e dai suoi risultati dopo 6-7 mesi di lavoro, mentre quando qualcuno, me compreso, dopo 4 anni di Allegri, iniziava a contestarlo, veniva additato come interista, come nemico della Juventus, gli si diceva stai zitto, non capisci niente, insulti, attacchi, gettare discredito, delegittimazione, fino ad arrivare veramente a cose, veramente ad insulti pesanti, veramente ad insulti pesanti per aver criticato Allegri e a dire, per esempio, che certe cose uno le diceva soltanto per fare visualizzazioni. Queste sono le cose che mi sono sentito dire io, ma che si sono sentiti dire anche tanti altri, per aver osato criticare Allegri dopo 4 anni, 4 e mezzo per la precisione, perché io avevo iniziato ad essere insoddisfatto veramente, insoddisfatto veramente della Juve di Allegri da novembre 2018, cioè dopo la sconfitta contro il Manchester United, la Juve ha subito un'involuzione, ma la prima volta che ho detto Allegri se ne deve andare è stato a febbraio, febbraio 2019, cioè dopo la sconfitta con l'Atalanta, la sconfitta con l'Atletico Madrid. Prima avevo detto Allegri sarà valutato sulla Champions League, se fallirà a livello anche di gioco, oltre che di risultato in Champions League, se ne dovrà andare, ed è andato esattamente così. Ma quando io dicevo queste cose, veniva attaccato in tutte le maniere da gente che adesso si permette di attaccare Sarri, si permette di criticare Sarri e di volerlo mandare, ma con quale onestà intellettuale? Con quale onestà intellettuale? Con quale dignità fate queste cose? Nessuna probabilmente. Ma non mi rivolgo a tutti quelli che sono critici o insoddisfatti da Sarri, perché, ripeto, è legittimo. Le dichiarazioni che ha fatto a Napoli sono quasi imperdonabili. C'è del buono, c'è una percentuale di aspetti che si possono difendere, nelle parole di Sarri, ma è una percentuale minima. Per gran parte sono dichiarazioni molto fastidiose e lo capisco che al tifoso fanno male, danno fastidio. Addirittura più le parole sulla maglia strisce, che sono state sottovalutate e accantonate, che non quelle lì sull'affetto nei confronti dei giocatori del Napoli. E vi dico che, secondo me, neanche alla Juventus, come dirigenza, come società, hanno fatto tanto piacere quelle dichiarazioni, soprattutto quelle sulla maglia strisce. Ovviamente non ne ho riprova, non ho fonti, non ho idea, non ho dati, ma la mia idea, la mia percezione, la mia sensazione è che possa aver dato molto fastidio quello che Sarri ha detto. Quindi bisognerà anche vedere che tipo di rapporto si andrà a sviluppare. Ma di qui a pensare che Sarri viene esonerato, o debba essere esonerato, o meriti l'esonero per delle dichiarazioni, ce ne passa veramente tanto. Anche perché, ripeto, ad Allegri avete concesso mille cose in più. Poi andare a dire, ripeto, che la Juve gioca male con Sarri, ma Allegri l'avete mai visto allenare? Cioè avete mai visto la Juve di Allegri come giocava? Questo poi, ripeto, lo dicono anche tanti giornalisti. E qui veniamo anche alla malafede, dopo la malafede dei tifosi, alcuni. Perché, ripeto, non tutti quelli che criticano Sarri sono in malafede perché vogliono Allegri, perché sono fans svegatati di Allegri. Solo una parte. E appunto, piccola parentesi sui tifosi, ci sono dei tifosi della Juventus che sono più tifosi di Allegri che della Juventus. O quantomeno sono tifosi di Allegri quanto lo sono della Juventus. E quindi lo vanno a difendere a spada tratta come se difendessero la Juve, ma in realtà non è così. Perché Allegri è stato esonerato. E non è più un dipendente della Juventus. Lo è solo formalmente perché percepisce lo stipendio di 7 milioni, 7 milioni e mezzo, fino a giugno prossimo, come da contratto. E infatti io l'ho già detto, non c'è da lamentarsi di questo. Eticamente, onestamente, chi di noi avrebbe rifiutato 7 milioni per un fatto di dignità? Pochi, molto pochi. Quindi non possiamo fare la morale ad Allegri perché si è tenuto i 7 milioni e non ci ha rinunciato, onestamente. Ma, tolto questo, non lavora più per la Juve. Quindi non lavorando più per la Juve, chiunque lo critica, chiunque lo contesta, evidentemente sta criticando e contestando un uomo. Come anche allenatore della Juve, ex allenatore della Juve, ma la Juve in questo caso non c'entra più. E quindi ci sono dei giornalisti che invece Allegri lo tirano in ballo di tanto in tanto. Ogni volta che parlano della Juve, anzi, dicono Allegri, ma con Allegri così, ma con Allegri colì, con Allegri c'erano più punti. Sì, ma perché non fate il parallelismo invece che tra queste la scorsa stagione, tra queste le stagioni precedenti? Per esempio, 2015-2016, quando la Juve all'inizio stava malissimo, ha iniziato malissimo il campionato, e a questo punto era molti punti dietro il Napoli di Sarri. Perché non fate quel parallelismo lì? Perché la prima stagione di Sarri deve essere paragonata all'ultima di Allegri che aveva Cristiano Ronaldo? Voglio capire. No, voglio capire. Perché c'è malafede? Perché c'è malafede? Ancora si parla di Mandzukic. Si critica Sarri su cose che sono veramente incomprensibili, dal mio punto di vista, da parte di alcuni sparuti giornalisti. Sapete anche a chi mi riferisco in parte. Ma veramente sono pochissimi. Che secondo me sono proprio panesemente in malafede su questo. Contro la Juventus. E loro sono contro la Juventus. Perché se mi vai a delegittimare l'allenatore attuale per tirare in ballo quello precedente, non stai difendendo la Juve. Quindi voi che amate Allegri e che utilizzate le argomentazioni di quei giornalisti per difendere Allegri pensando di difendere la Juve, in realtà state facendo il male della Juve. Perché la Juve in questo momento è Sarri. Va difeso e va fatto lavorare. Perché se vogliamo vincere trofei, li dobbiamo vincere con Sarri. Non sognate di non vincere. Non sperate di non vincere perché così Sarri se ne va. Ma dai! Ma che tifoso è quello che pensa una cosa del genere? E veniamo anche ad altri giornalisti come Adani. Perché ieri a Scalcio Mercato Originale, che io non ho visto in diretta, ma ho letto da più fonti la trascrizione delle sue parole, Adani è riattaccato Allegri. Di nuovo, dicendo quasi testualmente, se squadre come il Bayern Monaco, il Barcellona, non hanno scelto lui, ma altri allenatori, hanno scelto altri allenatori, ma non lui, che ha vinto 5 Scudetti, ci sarà una ragione. Ha detto vorrei chiedergli perché hanno scelto altri allenatori e non lui che ha vinto 5 Scudetti. Con questo, non volendo delegittimare i 5 Scudetti della Juve, perché non ha detto Adani ha vinto 5 Scudetti immeritatamente, in maniera illegittima. Ha detto ha vinto 5 Scudetti, quindi glielo riconosce. Allora, dov'è la critica di Adani alla Juventus? Perché vi indignate contro Adani? Possiamo lasciare ad Adani la libertà di dire quello che pensa? Dannazione! Tutti dovrebbero avere la libertà di dire quello che pensano, senza offendere nessuno. Poi se Adani offende Allegri, ma si difenderà Allegri, ma lo querelerà lui, non voi, non siete i difensori di Allegri, ne deve darvi più di tanto fastidio come i Juventini, perché non sta andando a delegittimare il percorso della Juventus, sta andando a dire che evidentemente Allegri, al di là degli Scudetti, non ha offerto di sé un'immagine a livello tecnico come allenatore, tale da essere appetibile per certe squadre. È un discorso che non è neanche un insulto, è una critica, tutto sommato anche fondata, perché c'è anche un motivo per cui qualche squadra, anzi, nessuno praticamente ha pensato di prendere Allegri. Poi lui magari avrà anche rifiutato qualche destinazione, ma non tutte quelle che sono state messe in giro dai giornali, e qui torniamo alla malafede, qui torniamo alla malafede, all'ottima stampa di cui ha sempre goduto Massimiliano Allegri, sempre, perché, tra l'altro, dichiarazioni offensive le ha fatte anche Allegri quando era allenatore della Juve. Contro i tifosi, contro i tifosi, non contro la Juventus, non sempre, ma contro i tifosi sì, contro i giocatori sì, contro i giocatori sì, non dimentichiamo come ha svilito certi giocatori in conferenza stampa. Allora, perché quando Allegri diceva certe cose che comunque erano dannose, comunque erano nocive, non vi indignavate, mentre adesso vi indignate per Sarri. Ripeto, ci sta, però dovete essere coerenti. Io mi sono indignato quella volta e mi sono indignato anche questa. Mi ha dato fastidio quella volta e mi ha dato fastidio anche questa volta. Ma poi, soprattutto, il tempo da lasciare a Sarri per lavorare è qualcosa di assolutamente indiscutibile. Cioè, non possiamo, non potete, ripeto, aver fatto i difensori, i paladini di Allegri ad ogni minima critica, ad ogni minima critica in maniera feroce, in maniera feroce dopo quattro anni, quattro e mezzo, cinque anni tuttora di lavoro e poi essere le stesse persone che vogliono mandare via Sarri con una scusa in malafede dopo sei, sette mesi. Veramente patetico, è veramente patetico. Allora, smettiamola di dire che torna Allegri, vi prego, smettiamola di dire che torna Allegri, facciamo lavorare Sarri, critichiamolo, critichiamolo, ma senza dubbio, non è un santo, non è perfetto, non lo è nessuno, critichiamolo, ma facciamolo lavorare, perché in questo momento è lui l'allenatore della Juventus, quindi se dite forza Juve, dite forza Sarri, sperando che faccia il meglio, poi se Sarri non sarà in grado, non vincerà nulla quest'anno, l'anno prossimo, si faranno le valutazioni, ma le farà la dirigenza. Noi faremo le nostre critiche, come io sto facendo, ripeto, pur essendo affascinato fin dalla prima ora dalla Juventus di Sarri in astratto, poi vediamo in concreto di che cosa si tratta e la osserviamo, la analizziamo e la critichiamo, ma serenamente, cioè via quelli che sono in malafede per cortesia, via, via perché in malafede siete contro la Juve. Questo è molto semplice, credo. Niente, mi fermo qui, forse avrei voluto dire anche qualche altra cosa, ma la sostanza dell'argomento, delle argomentazioni su cui fare dibattito, ve le ho proposte e allora ditemi la vostra nei commenti, vi ringrazio per l'attenzione, mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!